Appuntamento quotidiano dedicato alle notizie dalla Diocesi di Lodi e dal territorio dell'Odigiano. Bentrovati gentili amici, apriamo questo nostro spazio dandovi conto di alcuni impegni di Monsignor Maurizio Malvestiti per i prossimi giorni. Domani infatti il Vescovo sarà alle 17.30 a San Zenone all'Ambro per presiedere la Messa nel corso della quale conferirà il Sacramento della Cresima. Mentre in serata, sempre di domani, si recherà a Sant'Angelo Lodigiano e in tale occasione incontrerà gli adolescenti. Per quel che riguarda gli appuntamenti di domenica 3 aprile, Monsignor Malvestiti presiederà la Messa conferendo il Sacramento della Cresima a Caselle Landi nel pomeriggio. In cattedrale accoglierà i fedeli della parrocchia di Castiglione d'Adda per il passaggio della Porta Santa della Misericordia. Successivamente presiederà l'Adorazione Eucaristica e il Vespro con i membri dell'Associazione Pro Sacerdotio, familiari del clero e apostolato della preghiera. A conclusione degli impegni, l'incontro nella parrocchia di Sant'Alberto a Lodi con gli aderenti al movimento del rinnovamento nello spirito. Passiamo ora ad un altro argomento. Nella giornata odierna è stato presentato a Lodi, presso la sede dell'Unione Artigiani in Via Lago Maggiore, il nuovo sportello per il lavoro nato dalla partnership tra l'Unione Artigiani stessa con Galdus. Si chiama Rete Lavoro Lodi, il frutto della partnership tra Unione Artigiani e Imprese e Galdus, ente per la formazione professionale attivo da oltre 25 anni a Milano e da oggi a Cremone Lodi, che articola la propria attività tra scuola professionale, formazione di persone e imprese ed il centro ISI, per il quale interfacciandosi con aziende privati si promuove la relazione tra domande e offerte nel mercato del lavoro. Sentendo anche l'esigenza delle nostre imprese in tema di lavoro, abbiamo appunto scelto di fare questo accordo, questa partnership con Galdus, che è un ente qualificato a livello regionale. Quali sono le richieste che vi hanno rivolto i vostri associati? Le richieste sono molteplici, innanzitutto anche utilizzare gli strumenti che sono adesso in atto, come la dote, come garanzia giovane, ma anche diversamente per poter fare della selezione del personale, anche se, come abbiamo mostrato recentemente nei nostri indagini, non c'è ancora quella propensione all'assunzione, però alcune imprese, soprattutto quelle piccole, dove il capitale normale è una risorsa molto importante, hanno bisogno di fare una selezione accurata e quindi anche questa possibilità di poter avere una banca dati disponibile per poter fare una selezione diventa importante e strategica. Galdus ogni anno forma presso il settore di formazione professionale e imprese circa 3.000 persone, mentre il centro ISI nel 2014 ha inserito 1.360 persone nel mondo del lavoro. Galdus è un ente accreditato dalla regione Lombardia per i servizi al lavoro e per la formazione professionale di giovani ed adulti. Coinvolge nelle sue sedi, una chiaramente qui a Lodi, la principale a Milano e la più storica, circa 5.000 persone tra giovani ed adulti. Adesso sul territorio di Lodi sviluppa questa iniziativa insieme all'Unione dell'Artigianato per offrire più possibilità concrete, perché partono da una storia che oramai è già di circa due anni, per offrire delle proposte ulteriori alle persone che accoglie. Stiamo parlando di formazione, ma anche di opportunità che vengono messe a disposizione per l'incontro, domanda e offerta sul mondo del lavoro? Poserei dire principalmente la seconda. Preferiamo immaginare che anche la formazione sia esclusivamente utile all'inserimento lavorativo. In questo contesto formativo si inserisce la proposta finalizzata per il Lodigiano, ovvero la rete Lavoro Lodi. La rete Lavoro Lodi è un servizio che si rivolge alle persone e alle aziende per facilitare l'incontro tra chi cerca opportunità di lavoro e aziende che offrono occasioni per le persone che sono in ricerca di un'opportunità. Come contattarvi? Contattarci è semplicissimo, venire presso il nostro centro che è in Via Lago Maggiore 2 a Lodi, oppure seguendo il nostro sito web www.galdus.it c'è la sede di Via Lago Maggiore dove ci sono tutte le informazioni, gli indirizzi, i telefoni e la posta elettronica che è rete Lavoro Lodi, chiocciola, galdus.it Nello specifico alcuni dei servizi che mettete a disposizione? Il primo è un servizio di prima accoglienza dove andiamo a supportare le persone nella stesura del proprio curriculum. Da quel primo passaggio si aiuta le persone a capire quale possa essere anche un percorso per ricercare nuove opportunità di lavoro che può comprendere attività formative, ma non necessariamente, quindi una serie di passaggi successivi che portano a un numero significativo di occasioni a un risultato positivo. La giunta della Camera di Commercio di Lodi ha approvato la pubblicazione della nuova edizione del Bando in abbattimento tassi per investimenti e liquidità mettendo a disposizione 80.000 euro. L'iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese della provincia, ha finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese sia sul fronte degli investimenti sia per la liquidità. La misura prevede un abbattimento di un punto e mezzo percentuale sul tasso di interesse praticato dalle banche alle imprese per finanziamenti assistiti. La domanda può essere presentata esclusivamente a mezzo PEC a partire dal primo di aprile, quindi da oggi, e la liquidazione del contributo avverrà entro i 30 giorni successivi. I finanziamenti devono essere stati attivati successivamente alla data del primo gennaio di quest'anno. Questa mattina presso la Sala Rio di Palazzo Broletto si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale l'assessore alla mobilità Simone Piacentini ha presentato alcune novità per quanto riguarda un nuovo assetto viabilistico nella zona Albarola in particolare e gli interventi riguarderanno a partire da metà della prossima settimana via Saragat. Novità viabilistiche in vista nella zona Albarola a Lodi, in particolare in via Saragat dove a partire dalla metà della prossima settimana inizieranno i lavori per la realizzazione di segnaletica orizzontale e la posa di quella verticale. Ad illustrare le novità è stato l'assessore alla mobilità Simone Piacentini che ha detto che il nuovo assetto viabilistico coinciderà di fatto con la progressiva eliminazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e l'introduzione del porta a porta anche in questo quartiere. Cosa cambierà di fatto? In via Saragat sarà disposto un senso unico di marcia per i veicoli da via maestri del lavoro in direzione della chiesa parrocchiale. Davanti alla chiesa, in prossimità dell'esistente parcheggio, resterà in vigore il doppio senso di circolazione. Nel medesimo momento sarà realizzata una pista ciclabile di due metri e mezzo di larghezza, quindi a doppio senso di circolazione e che sarà protetto in alcuni punti, quelli considerati più critici soprattutto per la sicurezza di chi usa il mezzo a due ruote. Altra novità riguarderà la realizzazione di parcheggi a cassonetto lungo i due lati della via Saragat in sostituzione dell'attuale disposizione a spina di pesce. Nel complesso è stato detto che il numero dei posti auto dovrebbe essere lievemente incrementato rispetto all'attuale situazione. Infine, nelle vie di questa zona, Saragat, Moro, maestri del lavoro, sarà introdotto il limite di velocità di 30 km orari per le autovetture. Questo in attesa di ulteriori interventi che riguarderanno via Aldomoro e porteranno progressivamente l'intero quartiere interessato a divenire zona 30 km orari. In occasione del sessantesimo anniversario della vittoria di Eugenio Castellotti, la Mille Miglia, il prossimo 22 di maggio, transiterà a Lodi. Un evento questo promosso dal club automotostoriche Eugenio Castellotti in collaborazione con il Comune di Lodi, predisposto in preparazione al passaggio della Mille Miglia nella nostra città, anche una serie di eventi a partire da domenica prossima. Il 22 maggio i concorrenti della Mille Miglia transiteranno nella città di Lodi, raggiungendo il centro, dove in Piazza della Vittoria sarà previsto un controllo timbro. Un evento importante, come ha sottolineato il sindaco di Lodi, Simone Ugetti, dal punto di vista sportivo, turistico e culturale. Un evento organizzato per festeggiare il sessantesimo anniversario della vittoria di Eugenio Castellotti. Il coronamento di un sogno, quel sogno che i cuori sportivi lodigiani andavano cullando da sempre. È un modo per far conoscere anche la nostra città, insieme a altri 200 comuni, che saranno ripresi da una quarantina di emittenti, seguiti da 1500 giornalisti. Per noi lodigiani è estremamente importante questo incontro, perché celebra il sessantesimo anniversario della vittoria alla Mille Miglia di un grande figlio di questa città, Eugenio Castellotti, che appunto il 29 aprile del 1956 ha vinto la Mille Miglia sotto una pioggia sferossante e battente, pensate alla media di 137 chilometri, quindi 1650 chilometri, corrispondenti a Mille Miglia, di cui il nome, sotto una pioggia sferzante. Quindi direi che quest'anno è importante che la Mille Miglia transiti da Lodi, infatti in uscita da Piazza della Vittoria, procederà tutto il museo viaggiante delle auto, percorreranno il Viale Milano e davanti al cimitero di Lodi, dove è sepolto Eugenio Castellotti, ci sarà un simbolico tributo a questo grande pilota che tanta soddisfazione ha dato al mondo automobilistico e in particolare alla nostra città. Predisposta dal club auto-motostoriche Eugenio Castellotti, una serie di eventi in preparazione al 22 maggio. Domenica il primo incontro, il ventesimo Memorial Eugenio Castellotti, città di Lodi, e sarà una manifestazione turistica, culturale, che avrà come finalità quella di aggregare tutti i soci del nostro club, che sono più di mille, alla scoperta anche di alcune realtà del nostro territorio, non a tutti note. Il 29 di aprile, questo è molto importante, è una data non a caso, 29 aprile, perché coincide, come le dicevo prima, con la vittoria di Eugenio Castellotti della Mille Miglia del 1956, ci sarà disponibile un annullo filatelico in memoria e ricordo appunto di Eugenio Castellotti, attivato da posti italiani. Questo sarà il 29, ripeto, aprile, dalle 13.30 alle 19.30 a Lodi, in piazza Bruoletto. Quindi ci auguriamo che così vengano numerosi per l'annullo filatelico. Dopodiché l'appuntamento a tutti è quello di incontrarci per le vie della città, il percorso è tracciato, lo trovate sul nostro sito. Siamo così arrivati alla conclusione di questo spazio di informazione dalla Diocesi di Lodi e dal territorio dell'Odigiano. Grazie a voi, gentili amici, per l'attenzione e arrivederci. Diocesi di Lodi e dal territorio dell'Odigiano. Grazie a voi, gentili amici.